Decapitata l'amministrazione comunale di Celano con l'operazione denominata Acqua Fresca all'alba di oggi, sono infatti state eseguite tra le province di L'Aquila, Pescara, Roma e Teramo 25 misure cautelari ed interdittive nei confronti di amministratori professionisti ed imprenditori. Delle persone coinvolte nella maxiretata dei carabinieri del comando provinciale dell'Aquila per reati contro la pubblica amministrazione nel comune marsicano 8 sono state colpite da misure di restrizione della libertà. Il vice sindaco Filippo Piccone più volte parlamentare ed ex consigliere regionale azzurro in Abruzzo in carcere mentre il sindaco Settimio Santilli di Fratelli d'Italia e ai domiciliari Piccone politico imprenditore stato più volte sindaco e proprio a Celano ha costruito la sua carriera politica che nel maggio del 2019 lo ha portato a sfiorare l'elezione al Parlamento europeo. Nell'ambito dell'inchiesta ai domiciliari oltre al sindaco sono finiti il segretario comunale Giampiero Attili e i dirigenti Daniela Dicenzo, Luigi Aratari e Walter Specchio, quest'ultimo già coinvolto in un'inchiesta su irregolarità negli appalti per le scuole ai tempi in cui era direttore generale della provincia dell'Aquila. Agli arresti domiciliari anche gli imprenditori Goffredo Mascitti e Livio Paris. A carico delle 25 persone finite sotto inchiesta a vario titolo le accuse sono quelle di induzione indebita a dare o promettere utilità ex concussione, istigazione alla corruzione, turbata libertà nella scelta del contraente, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, falsità ideologica, turbata libertà degli incanti e tentato peculato. Sono complessivamente 56 gli indagati. Tra le 56 persone coinvolte 25 come detto sono state raggiunte da misure cautelari. Alle 8 tra domiciliari e carcere tra cui dirigenti del comune e imprenditori si aggiungono due che riguardano l'assessore allo sport del comune di Celano Barbara Marianetti ed Ezio Ciciotti vice sindaco nella precedente amministrazione che hanno l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le restanti 15 misure sono relative al divieto di esercitare attività professionali o imprenditoriali e riguardano imprenditori e professionisti non solo di Celano ma anche dell'Aquila, Roma e Pescara. Si tratta di Franco Felli, architetto di Avezzano, Luca P. Cirillo, architetto di Avezzano, Carmine La Stella, imprenditore di Avezzano, Claudia Stornelli, architetto di Avezzano, Roberto Tonelli, ingegnere di Avezzano, Lucio Zazzara, architetto di Torre dei Passeri, Giovanni Maceroni, imprenditore marsicano, Valeria Pacchiarotta, architetto di Celano, Andrea Pandolf, ingegnere di Avezzano, Francesco Stornelli, ingegnere di Avezzano, Fabrizio Confortini, ingegnere di Pescara, Eugenio Russo, ingegnere di Roma, Leonardo Gatti, ingegnere di Formello in provincia di Roma, Vincenzo Santilli, ingegnere di San Benedetto dei Marsi, Sergio Rossi, imprenditore dell'Aquila. Le misure cautelari dell'operazione condotta dal comando provinciale dei carabinieri dell'Aquila guidati dal colonnello Nazareno Sant'Antonio sono state firmate dal GIP del tribunale di Avezzano Maria Proia su richiesta del PM della procura marsicana Andrea Padalino. Nell'esecuzione delle misure cautelari sono stati coinvolti un centinaio di militari dell'arma.